Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori Fiorentina è impegnata a Parma a fischio d'inizio alle 19.30 Probabile una formazione più coraggiosa con Ribery e Cutrone davanti La vittoria in casa dei Crociati manca dal 2008 Quando segnò una doppietta Adrian Mutu Nel pomeriggio una voce di mercato legata anche alla Fiorentina Mario Mandzukic ha rescisso il suo contratto con l'Alduna Hill E può tornare prepotentemente in Serie A Oltre al Benevento neopromosso Lo segue la squadra di commisso per l'attacco per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola La voce del tifoso Viola Tweet